salve come vedete abbiamo finito tutto il lavoro c'è tutto 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 il pavimento i muri la fontana qua c'è la fontana che verrà messa l'acqua abbiamo fatto un pavimento questo terrazzo qui adesso è un po sporco però penso se riesco a passare quando viene l'impresa di pulizia da pulire e passa a fare un video quando è tutto tutto bello in ordine abbiamo fatto questa c'è stata acqua questa gettata abbiamo messo le mattonele per terra abbiamo fatto quindi abbiamo fatto tutto il noreto poi l'elettricista però ha fatto due butti ci metterà due scatere perché deve mettere qualche quadro per la luce abbiamo fatto pure lo scarico qua per mettere l'acqua il pavimento intorno abbiamo fatto cioè dobbiamo mettere fare abbiamo fatto il fibro cemento sulle colonne qua sul pilastro qua verrà fatto dobbiamo rifinirla adesso proprio oggi dobbiamo rifinire mettere il cemento in pendezza che verrà le fontane che l'acqua spruzza sul vetro e da questa parte abbiamo fatto abbiamo fatto il fibro cemento abbiamo fatto il fibro cemento abbiamo fatto tutte le mattonele del locale e poi abbiamo fatto i controsofitti in cartongesso le pareti in cartongesso abbiamo incolato le piante le piante sulle pareti anche lì qua ci abbiamo messo le piastrele i banconi ci abbiamo messo le lastre le lastre le lastre i grass porcelana questi qua li abbiamo messo noi e qui c'è c'è il bagno il bagno dei disabili che ancora stiamo a rifinire ci dobbiamo rifinirlo questo che ancora stiamo a fare un po' di fibro qua sono poi l'antibagno qui dobbiamo fare due ritocchi qua il bagno tu l'hai spartato? qua il bagno delle donne e di qua c'è il bagno dei uomini uomini ok ok qui abbiamo creato questa piscina ci abbiamo messo le pialle sui muri abbiamo messo le lastre delle mattonele di ceramica qui abbiamo fatto i cartongessi da questa quattro contro i soffitti e il bagno dei testi abbiamo ancora le lastre di ceramica sui banchoni abbiamo pitturato il po' tutto il locale questa parte abbiamo fatto rivestimenti tutti i cartongessi divisori qua c'è il bagno e gli operai questo è tutto il locale e vi saluto grazie 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 grazie